Guardo solo YouTube e guardando YouTube seguo, cerco e seguo solo cose che mi interessano e gran parte delle cose che mi interessano erano persone che attraverso dei video raccontano cose e era un po' che me lo dicevo, vorrei farlo, vorrei farlo ma mi vergogno, cioè mi vergogno vorrei farlo ma sai che dice, poi mi vede Abi e dice ma guarda quel cretino no, chiunque, chiunque, però capito, ho sempre, a un certo punto mi ricordo che ero a Siena prima di partire per Scaffati, pandemia totale ovviamente e dicevo domattina giuro che accendo la camera e riprendo tutto il giorno, l'ho fatto, sono partito e ha funzionato, ha funzionato ovviamente l'hanno visto poche persone, però quelle poche persone che mi hanno detto ah bello, fanno un'altra, fate un'altra come tutte le cose, piano piano impari poi l'idea è stata quella, a furia di vederli ho detto cavolo secondo me il mio piccolo contenuto ce l'ha un posto nel mondo